Poi si parla tanto in Parlamento di norme che tutelino le donne per dare il diritto alla donna di magari anche lasciare il proprio compagno, fidanzato, marito, senza avere poi il dubbio che magari la persona che stai lasciando possa tornare indietro e ucciderti. Non è possibile, non è possibile. La sua esistenza è stata segnata dalla violenza degli uomini che ha incontrato. L'ultimo, il suo fidanzato da circa un anno, l'ha ammazzata qui, su questa panchina che vedete nelle immagini in questa angusta piazza che in pochi secondi si è trasformata in un teatro di morte. Siamo parlando dell'allora 49enne Maria Tino di Dragoni, nell'alto casertano, uccisa dal suo fidanzato, il 62enne Massimo Bianchi. Un anno prima fu salvata dopo essere stata accoltellata dall'allora marito, ora in carcere. Era convinta però di aver ritrovata la felicità col nuovo compagno. Il peggio però per Maria Tino doveva ancora arrivare. Bianchi, un dipendente della comunità montana, in pochi mesi si è rivelato diverso da quello che lei aveva immaginato. Tanto diverso da farle quasi passare la voglia di andare avanti nel rapporto. Infine, l'epilogo. Intorno alle 16 del 13 luglio 2017, Maria era seduta su questa panchina in piazza Municipio, non lontano dalla chiesa e dalla sua abitazione, nel cuore del centro storico di Dragoni. Massimo arriva da lei in auto. Probabilmente avevano un appuntamento, ma con la pistola in tasca. Quando l'ha raggiunta, invece di parlarle, le ha puntato l'arma. Un attimo di esitazione, il tempo che lei capisse. E poi tre colpi uno dietro l'altro. La tragedia è già consumata. Un intero paese sotto shock, a distanza di otto mesi dalla tragedia, la famiglia di Maria sprofonda nuovamente nel dolore, perché qualche giorno fa arriva la sentenza che condanna l'assassino a soli 19 anni. Questa volta la famiglia, delusa, rompe il silenzio e decide di parlare. È un momento molto tragico per la nostra famiglia. È una cosa che non ci si aspettava assolutamente. La morte così ingiusta di nostra sorella, che solamente una motivazione così, solo per lasciarlo e si uccide così una persona. Ma c'erano stati dei segnali o no? Ma fino in quel momento andava bene, diciamo. Quindi poi le cose non lo so, tra di loro Maria cosa ha iniziato a vedere in questa persona. Fino in quel momento ci sembrava che andava tutto per il resto giusto, diciamo. Poi come avete appreso la notizia? Hanno chiamato i vicini, hanno chiamato mio padre, poi me, mia sorella, l'altra sorella. Senta, alla luce della sentenza che è avvenuta qualche giorno fa, che cosa avete provato? Delusione? La ritenete giusta? Sbagliata? È un'offesa per la nostra famiglia, è un'offesa per tutte le donne, è un'offesa per Maria, per i figli di mia sorella, per i miei genitori e per noi sorelle. E' una sentenza sbagliata, ci aspettavamo molto di più, però non è successo. Si parla tanto di femminicidi, bisogna fare tanto per cercare di risolvere queste situazioni e poi si fanno processi e vediamo che non è così. E quindi bisogna lottare per cercare di migliorare. So che c'è stata una certa amarezza, oltre tutto il dolore che avete avuto, perché secondo voi ci sono state le notizie sbagliate da parte dei giornali. Cos'è successo esattamente? Ci vuole spiegare? Ma diciamo che ci sono stati dei giornali che hanno detto delle cose non vere, che mia sorella era l'amante di Massimo Bianchi, quando poi non era così, perché con il suo ex marito erano fasi di separazione. Parliamo ancora della sentenza, perché diciamo che l'argomento, il tema di attualità, una sentenza che è venuta qualche giorno fa. Lei cosa si aspettava? Ma mi aspettavo di più, perché così è una delusione. Che cosa pensate di fare adesso? Eh sicuramente si andrà avanti, ci sarà l'appello, comunque si va avanti, bisogna lottare, non si può fermare così, accontentarci così, no. Qual era il rapporto esatto tra i due? Loro erano fidanzati, una coppia, diciamo, lei aveva scritto su Facebook una coppia di fatto, perché lei era legalmente separata col marito, quindi era iniziata questa storia, che per lei era bellissima, lui era il suo principe azzurro. Lei quando mi chiamava mi diceva io sto ricevendo attenzioni e amore che mai ho ricevuto nella mia vita. Quindi lei era molto felice. Negli ultimi giorni le uniche cose che si sono dette, che io sappia, erano cose del tipo andiamo a convivere e lei diceva di no, perché era presto, perché voleva più tempo, lei non amava essere messa sotto pressione. Questo era, lei non amava essere messa sotto pressione e lui invece era sicuramente innamorato, voleva dare, come dire, inizio magari ad una nuova famiglia, un fidanzamento che, come dire, poteva avere futuro, insomma. Sì, sì, che avesse un futuro. Lei voleva soltanto più tempo e invece quel giorno noi abbiamo visto le perizie sui cellulari, sul computer, quindi quello che sto dicendo non lo dico io ma lo dicono le carte. Lei non voleva essere messa sotto pressione e aveva detto se non la smetti ti lascio, basta. Quindi, diciamo, da questo sarebbe partito, diciamo, l'impeto da parte del fidanzato. Sì, ed è questo quello che mi fa rabbia ed è questo quello che addolora tutti, perché non può essere una frase magari detta in un momento anche magari di rabbia. Ma quanti di noi mandiamo a quel paese il fidanzato per motivi magari stupidi, però dieci minuti dopo non c'è più niente e va tutto bene, si torna sereni. Tu invece hai intravisto la fine di questa storia e hai deciso di ucciderla e queste circostanze vanno punite. Questo è quello che noi come famiglia poi, come dire, vogliamo dire. Queste circostanze che sono circostanze futili, sono circostanze stupide, sono cose che non devono avere nessun rilievo nell'ambito di un rapporto, non possono stabilire né la fine del rapporto, ma né tantomeno la fine della vita di una persona. Cioè una persona che aveva tutta la vita davanti, perché 48 anni, sono niente. E invece lui l'ha uccisa. Da Dragoni è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti.